Io voglio fare subito una premessa, intanto vedere tanti giovani entusiasti e partecipare con la musica, con la cultura che ci appartiene, questo mi ridà fiducia che la vita vive se c'è arte, la vita è solamente gioia di godersela perché è un dono meraviglioso vedere i giovani entusiasti di sapersi godere la cultura e il proprio paese, è un motivo di orgoglio per i genitori. Io sono felice, sono genitore e pure nonno e allora spesso si pensa che la cultura sta nelle grandi città, non ne è vera, la vera cultura sta a casa, ancora l'umanità, c'è un buon drago, specialmente si sta a dare una cosa e so, a Napoli quando ho chiesto. Sono contento e sono felice di stare qui e lo dico sinceramente per un solo motivo, perché mi pavano, ma che soddisfazione. in un periodo così difficile, pensate che ci potremmo fare una fotografia e sono 20 euro, è un periodo di merda, sono stato riuscendo a fermo. Io poi vedo tanti giovani come vedo tanti uomini già attembrati. Ai giovani dico, quando vedete i vostri papà, i vostri zii con le mogli, fate attenzione, guardateli bene, perché quelle donne che ci hanno vicino sono quelle ragazzine belline che mi hanno vicino, che sono belle, profumate, come mi dicono quando sono fidanzate? Chico fa fallire, cipi cipi, miau. Appena ti ha spuso, cagli pure la voce. C'è Gesù? Ma questo è quello che mi ha fidanzato prima. e ti raccorgi che si trasformano e comandano loro già quando tu accenni la parola matrimonio. Già sta scendendo l'esorcista. Ti portano a fare il giro dei negozi per andare a vedere l'arretamento, ti portano con loro tanto per ti portare. Tu cammini come si siste sotto a un'estesia, è chissà. Ogni tanto ti chiamo pure in casa, amore, come è scemo, sì. Ti piace quel mobiletto? È bellino. A me non mi piace, allora cazzo bocchetto a fare. Perché mi ha mortificato non so la gente? Quando mi sono sposato io ho chiesto una sola cosa a mia moglie. Ha detto per la soddisfazione, ma la fai accettare la plafoniera. pure se viene qualcuno a casa e dice che è la plafoniera. Che poi, non lo so perché, ma le coppie che vivono nell'umiltà, nella semplicità, quando decidono di sposarsi, diventano principe e principessa. Vanno fare i matrimoni e i lussi, dove mettono pure in difficoltà i parenti, gli amici. Io sono abituato alle cose semplici. Già quando si vestono, parlano tutto zombie. Scarpi nuovi, vestiti nuovi. Gente che è indossata per la prima volta a gravata, lo chiamano sabato. A voi c'è la capa, non mi sono raffugata. A me mi fa passare, c'è il momento della chiesa. I parenti e gli amici di lui si mettono coppa a un lato. I parenti e gli amici di lei coppa a un lato. Si schifano a vicenda. Luoco sacro. Si fanno commenti di questo gemma. Chi è che lo ha fatto con la pace? Che si andà a chiesa. Gli uomini sono ancora peggio. Fanno un anno, un terzo matrimonio, ma non so quando ho vestito chiesa. Pensate che è un momento di religione si fa. Poi c'è il momento del... Io vorrei spiegare agli sposi che sono convinti che quando mandano una partecipazione nelle nostre case pensano che mandano un momento di gioia. Madonna, che papà si fa vedere che succede quando arriva la partecipazione? Questa cosa mandano, ma chi si è strunza? I nuovi cari ci hanno mandato un stucato a stagione. Pare che è arrivato qui in Italia. E le donne che sono già esperte a cominciare a fare mi devo vestire io. Si devono vestire i bambini. E a te, appunto, quello che ti dice tu tieni una nuova stita che sono dieci anni che non mi cazzo se lo ricordo sempre. E noi da uomini, da maschile ci vomitiamo. Ma ci va talmente stritta, ma talmente stritta. Che quando c'è un matrimonio, poi qualcuno viene in camera tutto strano e dice io ho il vostro marito, non ecco tu, se no io lo vestite. E poi il matrimonio, fanno questi matrimonio di lusso. Che già quando arrivo in due ristoranti questa tavola apparecchiata con 10.000 bicchieri, 20.000 posate e lei che fa il marito Pasqua, mamma, qual è il bicchiere dell'acqua e il bicchiere del vino? Ignorando. Ora vuoi essere dei maschi, dei piccoli e dei femmini. Ora vuoi essere l'uomo colto. A me a me di matrimonio quello che fa soffrire è l'attesa degli sposini. Gli sposini vanno a fare le foto alle 14 e ben non è 10 la sera. E noi parliamo tutti albanesi nella famiglia di pazza. C'è la gente che si abbuffa i panni in attesa. Capace capito Cristina che serve se va facendo una pallotta le mulliche che si è fermate qua. E mentre noi stiamo morendo dalla famiglia gli sposini stanno a fare le foto io voglio essere che noi c'è un fotografo. Chi è? Che c'è una fantasia allucinante. Noi stiamo morendo dalla famiglia guardate un fotografo che fa una fantasia. Mettate questo che gli è scendendo una rosa. Questo che gli è scendendo una botteglia. Che poi finalmente arrivano gli sposini finalmente si mangia. E invece l'imbecille di turno che cominciano bacio, bacio allora si sceme. Si non tiene fame, vatti. Anche perché nel matrimonio appena ti distrae arrivo qua per lì e se porto il piatto. Io c'è questa gente che il furcetto è male con un rivale doveva per lì sto aspettando la rurda ma per l'acqua. E poi in queste circostanze si dicono gli sposini attendono una sola domanda con grande ansia. Allora dove andate di bello? E rispondono di un sol fiato. Beh partiamo stanotte per Roma quando andiamo a città del Messico Brasile Canada e in Australia. Ecco stato l'io anno fuori. Oggi è vero se non vai a trascorrere la luna di miele come minimo in Australia vieni considerato un sottosviluppato. Infatti è mia moglie quando ci chiedono voi dove avete fatto il viaggio di noi? Ci imbarazza ma ci consola che quando diciamo molto acuto nessuno sa dove è situata questa località. Molti pensano che era una provincia del Brasile e della Valencia. No! È provincia di Avellino là c'è piaciuto e là si muove. Uno ve lo posso con un canone c'è Avellino e non sa più cazzo va a fare in Australia. Se la logica è questa. E poi io ho capito anche dopo sposato perché le donne usano questa apparente tenera poesia la casa la chiamano nido d'amore mola ci capite da sposare che significa nido d'amore perché a noi uomini che le ce l'hanno non nido poi tutta la casa è loro c'è un'armadio a otto sette sono che so e uno e a due se tu parli ma perché che ci devi mettere dentro ma perché camminano padrone assoluto della casa tu sei ospite in casa tua addirittura mia moglie mi contessa che non so sedermi sul divano tu non ti sai sedere tu ti butti Gesù se fanno un corso per me aspettare pensate quando mi sono sposato io ho chiesto una sola cosa a mia madre ho chiesto mamma devo una curiosità ma io prima di fare la pipì quando ero giovane la sapevo fare che da quando mi sono sposato mi sono accortato la pipì non la sa ci fa appena il do bagno arriva lei viste dove l'hai fatta ho capitato non la goccia non si muo anche perché loro non avvertono non conoscono questo problema noi dobbiamo una gegeppe noi per esempio loro si stanno in treno fanno la pipì non è un problema quando ha scambio voi perché loro si assette noi siamo all'età si acchiappavano lo scambio ma tutto parte ma non l'ho ma quando ha scambio ha scambio un anno e poi una parentesi è una curiosità che ho da ragazzino non ho mai capito perché le donne quando vanno in do bagno vanno a due a due ma che l'ha da H6 ma che fu un navigatore C6 C6 sei grande se vanno due donne è normale se vanno due uomini una tutte non è normale le donne quando vanno in do bagno pare che parte dalla pilleggiatura si parte una bozza o telefonina è puntuale che ti chiede ce l'hai in fazzolettino ma capito guarda rinducesse questo io ho capito che sempre a noi maschietti non ce n'è bisogno basta che ci eh ma noi guardate a noi chi lo cusariello fa scherzo tutto ci batte un quarto lo rimetti a posto ti ha fatto quando diamo paura sempre che mi la troverete se c'era una goccia la coda è asciutto con i ginocchi per evitare la discussione la mattina è caduta la macchinetta con il caffè in terra per evitare la discussione ma ci sono andati con la coppia per la cia asciutta e che è successo niente metti un po' che il caffè in cuore non lo potevi poi loro sono guardate io non lo so come fanno noi siamo pure sfortunati se in casa cerchiamo un paio di calzini una fazzoletta apriamo il cassetto non li troviamo arrivano loro e li trovano e tu dici non è possibile io ce l'ho anche pure un legno allora questo si sono nascolto e poi metto mi fa per dispietare poi tutto quello che noi facciamo per loro siamo incapaci di intendere e volere tutto quello che accattiamo ci hanno fatto fessi come si possono uscire io per esempio che so compro una giacca ho pagato 100 euro per evitare la discussione le dico che ho pagato 5 euro ma faccio sconto stessi ebbene non è capace di se c'è noi la pagata 25 euro ma faccio sconto non sconto poi avete provato ad andare ad andare insieme a vostra moglie la vostra fidanzata io non amo dire la compagna a me questa cosa mi mette una tristezza in cuore la tua compagna la compagna per me era la compagnello quando io mi appazziavo mi presento la mia moglie e la mia compagna appazziavo tutti i due e le donne hanno questa sfacciataggine noi siamo più bravi più buoni più timidi traslendano il magazzino lo mettono sotto una faccia di me ci rompono che il povero commesso si è acceso senza scomporsi non mi piace niente guardate ma da creare ero talmente mortificato che la scena scende diciamo non mi ha mutato con me non ti ne ho curato sono così maniacale anche con l'ordine la polizia a casa mia mi pare un museo tutto preciso una volta un amico mi si è appicato vicino la mia moglie la guardate ma l'hai sposato ma stava lì ma che ne so ma che bene è una scientifica la casa e poi io sono anche convinto che le donne prima di sposarsi si riuniscono tutte le donne della famiglia cognate nonne mamme si mettono sotto e le vanno a istruire perché tutto quello che succedeva a casa di mamma succede pure a casa con mia moglie ma per esempio guardate che fantasie tenendo i film napolitano campani tu stai in due bagni tu guardi fai a rovai Gesù in due bagni io adesso l'ho pulita ma che ma c'è cacca sotto oggi c'è signore signore mia moglie pulito cessa ma che concetto sei l'ho pulita adesso e poi fanno un'altra cosa che mi fa massa tu ti alzi alle 5 del mattino può capitare alle 5 del mattino esigenza psicologica e 5 vai a fare pipì ma quanto può durare la pipì 30 40 secondi tranne quarantina la prostata il tempo di fare la pipì torni nella stanza dal letto trovi tutto aperto gli olietti fatti e poi dici ma che è succiso tu guardi e dici ma perché non ti sei alzato e 5 e che pagare la pipì e mamma mi ha imparato mi ha scattato pappavalla a fangulare in due letto e mezzo no perché sono così siete così noi siamo buoni noi siamo fessi noi ci cagiamo sotto e ci non è che mazzate che stai avendo l'annamorato tu vedi che sta capito no devo dire poi loro sono fatti così non c'è niente da fare se stanno nel bagno loro noi non ci permettiamo mai di entrare se stai tu non se fottano proprio tu sei assaltato un corpo cesso a me era pure facile non solo trassa ma come puzzi perché tu fai il profumo quando fai in due cesso e non solo che cosa fa fa una cattivera incredibile allora fai se tu rimane un corpo c'è se accendi e rimetti il palazzo che vuoi e dici che l'ha raputo la fai se c'è con ma giuro ancora penso a quando dovevi tirare l'occhio quando sei assentato che arriva la cascata la rete ma che avevi fatto tu poi quando inizia ad avere dei figli devi chiedere il permesso quando ha rapo un figli rifero io a parte il fatto che sono convinto che mia moglie mi si ha nascosto in la cucina in la stanza in la notte tu ha rapo un figli rifero e lei sta nella stanza da letto e va come già fa che stai facendo nel nel figli rifero ma tu ci vado in tele camera si hanno imparato pure i suori era un mura ora io dico hai iniziato ad avere i figli tu ti vuoi pagliare un biscotto ma ti mangiare il biscotto di Fabrizio perché è un uomo vicino il prosciutto di Daniele ci stanno a roba amici stai in questa casa non c'è niente che ti appartiene tu devi chiedere il permesso e poi diciamoci la verità quando uno si sposa una cosa che va a morire è il sesso non se ne fa più solo se accenni la parola sesso tu guardi e pensi sembra un agosto bello ma io penso solo a me ma le donne sono furbe astute intelligenti quando noi maschietti torniamo a casa ma proprio in forma in forma se accorgono subito perché non ci sentiamo non facciamo la televisione stiamo solo a rete loro diciamo amore ma sei bello parola parietta pure si fa schifo stiamo angrippando e loro puntualmente ci fanno fessi fanno luoggi piccolino piccolino tu tu guardi noi noi subito vai vai un attimo nella stanza da letto il tempo di fare la cucina è subito vengo e si fanno la cucina nuova nuova cocaina e riportarlo nella sua cucina è che mi sono capitone in dolietta e più delle volte ti addormenti tu ma nois ma una volta che sei addormentato l'operazione è complicatissima prendere il bambino senza farlo spegnare perché c'è miso due ore lo alzi come se fosse una bomba guardi tua moglie e fai si parla taccira arrivi verso la stanzetta e ti ricordi puntualmente ci vuole un po' che vuoi vicino alla porta perché fa un muro lo appoggi nella culla fiera soddisfatta che ce l'hai fatta e stai per girare papà io morì a papà dice dice i bambini sono la gioia della casa ma la casa è chi io non ho vergogna di raccontarvi un fatto molto personale ma molto personale una volta stavo insieme a mia moglie una volta e sapete quando sei insieme è normale che ci sono dei gemiti io facevo ah e mia moglie ah a un certo punto sento un terzo ah Gesù è chi è a faceva pure ma chi state chi è ci giriamo e per nostra somma sorpresa troviamo il nostro figlio appeso alla culla che ci guardava e ci imitava io non sapevo come fare ma comunque era a concludere oh guarda c'è che c'è papà quando è bellino cucù tetti cucù tetti no ma che si fa per i figli che si fa per i figli che poi avete notato quando nascono i bambini si va al nido a conoscere il bambino un'ora di vita si vedono già le somiglianze avete visto come è fatto c'è un vetro di protezione i bambini stanno nel nido che i genitori i parenti si hanno azzeccati anche questo vetro non li sentono ma mi viene solo la bocca che si muoce ma è così o è una trecchia e iniziamo a vedere le somiglianze guardate un'ora di vita cominciamo a caper due parti addirittura una volta ho sentito dire c'è la bocca della nonna c'è un credo da neri e dove ma si dice uno strunzato incredibile poi i bambini iniziano a vocalizzare a 6-7 mesi inizia il cosiddetto repertorio fai lì fai l'occhio lì cucù tè cacciala lì ma che stai facendo il fisioterapista ma la domanda più cretina qual è dove c'è là il pisellino ma su ma poi perché chiamarlo pisellino lo mandiamo pure in confusione i bambini chiamiamolo come l'hanno chiamato anche perché può capitare che qualche volta la mamma fa passare piselli e dice ma nonna che è successo in questa caccia ha cominciato la paura avete notato che si fa un'altra cosa si dice che i neonati sono i requieti non vogliono dormire mai volessi conoscere l'autore che lo ha scritto a nonna ma chi è questo c'è una fantasia allucinante ma è possibile che uno canta a un neonato e poi c'è chi lo ha scritto a un po' di meno dinna nanna dinna oh questo bimbo chi lo do lo ha scritto azzà cominciamo a burro glielo do alla befana se lo tiene una settimana glielo do all'uomo nero se lo tiene un anno intero giustamente lo ha scritto su domanda ma che faccio a fare come lì di sparcare ma come fa chi sta dormire con questi pezzini vuoi terrorizzare ecco ma se io morire mi dice no signore Roma Roma rimane che poi la generazione mia eravamo più festacchiotti anche i giochi noi erano artigianali giocavamo con un pezzo di legno con quattro cuscinetti a sfera si chiamava ucarruocci ci potevamo che la panza coppa un coppio di ceci ci arrapevamo la capa ma che divertimento ma si chiamava uschietbol pensate una volta mia nipote mi chiese per il suo compleanno zio mi compri barbie e dice va bene e qual è il problema il problema fu quando hai attaccato che si può avere una barbie che barbie signorina barbie no c'è barbie elegante con i quadro con i vestiti costa 800 euro di di meno oppure barbie sportivo con la palestra con la piscina costa 1000 euro c'è stato ma una barbie so coloro non è tenita più economica non è come venite pure i clienti la mia generazione ha vissuto nella semplicità oggi i bambini sanno tutto sul sesso io ho sentito una volta un genitore dire al proprio figlio vieni qua ormai tu sei grande ho bisogno di parlare di sesso con te e papà che presto che puoi sapere a casa mi si parlava con me di sesso oggi i bambini si spogliono insieme i propri genitori si fanno la doccia nudi insieme mio padre mia madre non si sono mai fatta per a nulla mamma ha fatto buono a casa mi pensate in quale ignoranza siamo cresciuti la mia generazione quando le nostre sorelle avevano quelle cose che le donne hanno puntualmente ogni mese diventavano dei mostri mi metteva ancora era anche un torino e otto a parte il fatto che papà non sapeva di fare la mestruazione mamma diceva lascia stare la tua sorella che ha le sue cose e non capiva dice mamma che ne tengo a morire le cose mie mamma che ci facevano creere guardate quale ignoranza siamo cresciuti quelle nostre sorelle tenivano quelle cose guardate che ci facevano che si toccavano la pianta muoreva si pittavano la pomerola a mano gli evaci che ma mi sorge un dubbio ma tu avrei che mia sorella mi si ha un dubbio allora lo sento dal cuore e ho voglia di farlo nel salutarvi ho visto questa gioia che mi avete trasmesso nel vedere giovani bambini famiglie ne avevo bisogno specialmente in questi due anni dove abbiamo vissuto l'illusione che noi esseri umani potevamo renderci conto di quanto è bella la vita e di quanti valori abbiamo sempre sottovalutato che sono l'abbraccio il sorriso la famiglia gli amici i conoscenti e credo che Dio ha fatto un regalo a noi esseri umani più bello più bello ci ha regalato una mamma la mamma è il regalo più bello che Dio potesse fare all'essere umano però stranamente noi spesso dimentichiamo questa ricchezza eppure per essere solo pensate una mamma per far felice un figlio fa mille sacrifici un figlio per far felice una mamma non ci vuole niente basta che ci dice mamma ti voglio bene l'ha resa felice e allora se solo pensiamo ogni volta che ci mettiamo a letto pensiamo tutte le volte che lei è stata affacciata al balcone zitta senza suddicere fin quando non dovrebbe tornare poi si buttava nel letto fingendo di dormire perché era sentiva la chiave che faceva la mamma che a Natale si metteva in cucina e non si toglieva dalla cucina e non si godeva a Natale se lo lavorava a Natale per farti godere a tavola per farti vivere a Natale la mamma che ti ha aspettato in la panza ti ha aspettato fuori a chiesa ti ha aspettato quando tornava a di casa una mamma che aspetta sempre e noi spesso rinunciamo quando ci sposiamo ma bubo vaga a bubo vaga non è giusto la dobbiamo rendere principessa sempre anche quando non è Natale ha maggior ragione mandiamoci i fiori e scriviamoci scusa mamma se non vengo spesso ma ti voglio bene assai allora io ho scritto questi brevi versi e li dedico alle mamme presenti e fanno così che resta parola la mamma la mamma è una cosa più caro che non ha figli potreste e si ha rischiato la vita per dare la luce caro ti ha confortato ogni male ma tu non hai prezzo ti fa stare a sede a pigli e faccia ma male è che lui vuole che non la trovo e si cagli che cagli a fa aveva cagli quando aveva cibi cagli no mo canna tiene a mia madre e alle mamme presenti grazie grazie di questa bellissima serata grazie di vero cuore ne avevo io bisogno di sentire l'umanità grazie grazie ma grazie ad Angelo Di Gennaro ancora facciamo i complimenti e un applauso grazie Angelo a questo artista che ci ha fatto divertire e grazie ai tecnici perché vi assicuro che nelle piazze è sempre molto difficile riuscire specialmente noi che parliamo e io stasera ho lavorato con una serenità incredibile perché dietro c'era un'equipe di professionisti che lavorano con umiltà ma con grande professionalità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti